amici di tg plus buongiorno oggi parliamo di disorganizzazione cronica lo facciamo con la nostra ospite sabrina crippa che è una professional organizer sabrina buongiorno buongiorno a te buongiorno ai tuoi ascoltatori grazie infinite di essere in nostra compagnia a parlare di un argomento così interessante come la disorganizzazione cronica allora per prima cosa vorrei chiederti che cos'è ma anche che cosa comporta la disorganizzazione cronica termine disorganizzazione cronica è stato coniato da una professional organizer americana che si chiama judith goldberg che ha scritto anche dei libri in merito a questo argomento e che ha fondato anche l'icd che è l'institute for challenge disorganization quindi proprio quelle disorganizzazioni un istituto che segue proprio quelle disorganizzazioni cosiddette sfidanti diciamo un po particolari allora questa disorganizzazione cronica è proprio una situazione una disorganizzazione che come dice il termine stesso si cronicizza nel tempo quindi una disorganizzazione che si protrae per un lungo periodo di solito si parla di disorganizzazione cronica quando parliamo di più di 35 anni quindi una situazione che va molto in là col tempo e diciamo che può essere innata nel senso che se una persona non ha capacità organizzative si troverà in questo tipo di situazione ma può nascere anche da un evento traumatico che magari accade nella vita di una persona quindi diciamo che la motivazione non è importante l'importante è capire almeno per noi professional organizer non è importante è importante capire come affrontare questa situazione non è assolutamente semplice no perché è un disturbo subdolo mi verrebbe da dire ascoltandoti sì è un disturbo subdolo e capire anche come identificarlo non è semplice nel senso che è importante infatti io consiglio sempre ai professional organizer che si occupano di domestico di ambiente domestico di seguire la specializzazione di disorganizzazione cronica e disturbo d'accumulo perché in questo modo hanno gli elementi che possono far capire loro quali sono i camparelli d'allarme quali sono i sintomi di quando ci si trova di fronte a una situazione di questo tipo perché il supporto deve essere un po' diverso rispetto diciamo a una situazione tra virgolette normale in tutto questo un professional organizer come può aiutare allora il profession organizer può aiutare innanzitutto diciamo che deve creare proprio deve sfruttare al massimo le doti che vengono richieste a un bravo più che sono quelle dell'ascolto dell'empatia quindi in questo caso deve proprio entrare a un bollino con un buon livello di empatia con il proprio cliente con questa persona deve essere d'aiuto può essere d'aiuto perché aiuta questa persona a liberarsi delle cose la difficoltà di queste persone proprio quella di lasciare andare quindi un professional organizer può far capire a queste persone che è arrivato il momento di prendere consapevolezza di questa situazione che non li fa stare bene perché la disorganizzazione cronica ha un impatto negativo sulla vita della persona perché ovviamente poi diciamo che il fatto di vivere in una casa disorganizzata disordinata porta queste persone spesso a evitare di evitare persone in casa ma non solo amici e parenti ma anche se semplicemente il tecnico della lavastoviglie o chi deve fare manutenzione per la casa quindi capisci come questo possa creare tutta una serie di problemi nella qualità della vita di queste persone che ci sono